Ma che schifo, ma che merda è questa? Che modo di rappezzare le strade a Taranto? Guardate, dei lavori che penso siano stati effettuati per conto di un'utenza privata, non so per conto dell'acquedotto o di altro ente, pubblico o privato, quello che sia, cosa si fa? Mica si rimettono, si ripristinano i mattoni, si butta l'asfalto, così, guardate, e così abbiamo i rattoppi, abbiamo l'abito schifoso di Arlecchino. L'amministrazione comunale tace, piega la testa, non si ribella, Melucci il sindaco subisce, l'assessore ai lavori pubblici, Mattia Giorno, pensa a girare istituzionalmente per viaggi istituzionali l'Italia, in modo lecito, nulla da dire, e poi assistiamo a questi scempi. Guardate un po' se è normale una cosa del genere. Ma scusate, io ora da consigliere comunale già sto rompendo parecchio le scatole, ma mi sa che devo romperle ancora di più di quanto faccia, anche con i lavori pubblici e con il patrimonio, perché non è possibile che la nostra città, il nostro patrimonio, le nostre strade debbano essere stuprate, stuprate in questo modo. Cari signori dei lavori pubblici, caro sindaco, caro assessore ai lavori pubblici, caro assessore al patrimonio, guardate, peraltro un asfalto messo male, tutto saliscendi, gobbe gobbe, guardate qua, si rischia pure di cadere, guardate, qui in prossimità di uno scivolo per disabili si è creata una conca, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Le strade appartengono ai tarantini, le strade appartengono a noi, che paghiamo le tasse e dobbiamo vedere ridotto così il manto stradale, il marciapiede, guardate, basta attraversare, fare due metri, tre, quattro metri e guardate che altro schifo, guardate qua, guardate che scempio, l'amministrazione Melucci dorme, 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 guardate qua, guardate, 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 tutto rifatto, invece di mettere i mattoni si mette l'asfalto, io avrei preso la ditta, metaforicamente parlando, avrei preso la testa, avrei messo la loro testa, sempre in senso metaforico, non in senso fisico, sono contro ogni forma di violenza, avrei messo, metaforicamente, la loro testa al posto dei mattoni, altro che l'asfalto, guardate qua, guardate, guardate qua, guardate, guardate come si sceglie, il povero anziano stava pure cadendo, guardate qua, guardate, cosa è successo, è sprofondato, guardate, guardate, guardate come si sta sgretolando tutto, ma se è possibile, Mattia Giorno, Melucci, Azzaro, Assessore Azzaro, Assessore al patrimonio, Assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, Sindaco Melucci, questo è Taranto che voi amministrate e avete il coraggio di parlare di rinascita, sparite politicamente da Taranto, perché fate più bella figura e fate meno danni, ho il cuore ferito che scoppia come i tarantini, non meritiamo questo, vai a casa Melucci, tornate nella tua Crispiano, non sai amministrare Taranto, vattene via, guardate, guardate, guardate che schifo e dimostratevi il contrario per favore e dite se ho ragione o no, ma tanto politicamente parlando, già ve l'ho fatto il pelo e contropelo, ma non vi darò tregua sul piano politico amministrativo, ho rigate dritto con me, ho rigate dritto, non c'è alternativa, rappresento 4200 tarantini che mi hanno accordato la loro fiducia e li devo rappresentare e li devo difendere. Grazie.